Buonasera, buonasera, siamo ancora nella testa di nuovo, che si era sfida tra i 27 equipi, con i 27 riscatti, con la testa subito dentro del risco, quindi tra i 27 punti per uscire per fare più basso dalla consiglia, abbiamo subito le letture delle formazioni, ricordando che lo scotto si sceglie con il completo franzo, mentre chi per il completo è bianco. Qui per il traipare si era da un arasco, capoano, francesco, meglio, costigualità e piano, salvatore, un pochino c'è il capoano Michele, l'altra parte allo scotto presenta gli animatissimi, sono da un giro e tonta, intanto l'hanno lavorato tra i quali fortezza di Cattolino e Colandria, non è acquisto da di giù titolare, mentre l'hanno lavorato in panchina in questo necessità. Stiamo subito con la cronaca, adesso vengono a fare di Cattolino, ma Tiano parla al centro, Cattolino di fortezza, poi ha rubato il battito di giù con Andrea, al ritorno di Tiano, che è giocato il penale, e quindi guarda, riparte l'attacco con palla per questi giorni, in questa parte, il controllo sinistro, la posizione di fortezza, vengono a peristano, l'unico di Milano con Capuano, che si tratta di contatto a noi qualche appunto, della faccia di Fortunato, con un'ottima aree del panchino, di Cattolino lo va a bere perispolavorato, la schiena proprio di Capuano, raccinti da un specchio, per me stanno in fortezza, ottima giocchia tra i due con la mia, trovo il problema sta anche sotto, trovo il piede sul barone, Gaglino, calcio d'angolo, tra i due con il sacco d'angolo, bravo il sultimo, l'essuale di Gaglino, massissimo giraterino, perfetto piano, la intra-signe, effetto di migliori già, il fine da un sforzo che sta nella sinnessione, Gaglino, mostrando il giraterino, con l'imprimbing, inglese di livello, Gaglino, anche qui c'è una parata di barone, il pizzo poi, il testo è trattato da un piano, quando si riuscita molto a scolto, ma c'è anche con i pughi, con l'andria, il girato in fortezza, stanno tra i due, il pizzo è una parata di energia, ma il tempestino è nascito di barone, questo è il palone, questo è il palone, non c'è il palone, il palone si riuscita di nuovo, la parola sotto, ci otta qui in centro campo, la parola poi, se non la controlla la parola, la parola, la parola, la parola, la parola, il prossimo di Gaglino, il girato di Gaglino, il pallone, il pallone, il beso di lui, il giro del Tessiglino, il pallone, il giro del Tessiglino, il pallone, il giro del Tessiglino, il passaggio è un overtorzinho, il pallone è un pochino, e invece il pallone sul piano, i le ployo del Tessiglino, un po' di trottazione al riscotto, c'è l'ora di Santristo D'Aguano per i partiti, perché a conclusione, fa qualcosa di un pinniglio al giallo, però poi si trattava la testa. Quindi, a fine di... ho avuto lì, poi... ho avuto rispetto. Ho messo a fuori di questi due, però, che si racconta la vista durante l'inizio, non è... Ma la mia... la rispeccia... la mia punta di mezzo, il mio sito di cosetto, che parecchio sui passi, mi tratto conto al posto di corteccia, e poi, che si trattava in questo punto, dicatemi una cura, si in Italia non riesce, la fisica ottima di chiama. E io... che non sarei a... per il giro sul pallone, ma si sorprende, però, però che non ha piaciato, mentre esiste una carità, però, anche... che non è... che si diventato, se non è tanto l'orando, in questo senso, una parola, un pallone, un pallone, un pallone, un pallone, un pallone, un pallone, il meglio che si chiama questo pallone, e il più giro il meglio, il comando di avvitare il piede, che lo mette un dirino in corno. Ma ci erano la favorita, un pallone, un pallone, un pallone, un pallone, che hanno una battuta, un pallone, un pallone, e questo è il nuovo giro il mio spedizione, e la battuta un pallone, un pallone, un pallone, di agosto, e anche, con Andrea, un pallone, un pallone, un pallone, quindi interini, un pallone, un pallone, un pallone, un pallone di Aj artesco, anche un pallone in giro, tra il pallone running. Anche con Andrea criticisms erano tanish avanti tra l'altro la guana intercettiva il primo giro del Conte, entrava uno contro uno, assista per colandriano che funziona e un pallo viene capolato con la deliezione al largo del luogo guano del Buono Francisco e basta anche nel primo anno che il 5 si rimesse la guana al giuno e indietro per Conte, pressa di da questo gioco si... è stato il gioco nel finto poter riser imparare cambiare il controllo, visto che è un pallone che è un pallone che è un pallone che è iniziata e si trovi che è il pallone il temore Ora è proprio perché il Barone si si pisse in titolare Barone in caso poi è girato. Dopo 3 inizioni più nuote in questo Barone. Barone con i piedi che c'è da questo vestito alla chiesa partita di suddito Barone, per esempio di Ciclaterino, mi ha salvato la guardia di Ciclaterino, a conclusione Barone si fa trovare attento. Mi ha salvato il portiere di Ciclaterino, con l'impatto di alcune aziende anche per il portiere di Ciclaterino, non è così. Mi ha salvato il portiere di Ciclaterino di Ciclaterino, di Ciclaterino, di Ciclaterino di Ciclaterino che ha salvato la guardia di Ciclaterino di Ciclaterino, di Ciclaterino di Dio Andrea, di qualche senso di Dio Andrea, spingono il due, sai che fallo, fallo gli all'espetta perché si fa una spinca di piano su quell'angelo è quasi bellissima, si tirava il stesso con angelo, di una cosa assoluta di fare con l'angelo all'espetta, con un'angelo proprio per incaricarsi alla battuta e che magari si stanno una battaglia, un po' c'è la capolana, un po' c'è il giro, questi giro, un'angelo con angelo in testo, una navigazione di piano, tempo con angelo di otterino, ma il giro è male, e parte il controllo del pallone, parla fuori di titolo, il controllo del pallone, che si mette in mezzo, un consiglio, una vittoria, e questo è una gol, di piano, di nulla, due fai, il partito dell'Alzheimer 1-0 e qui però, a soltanto, non toglie. Un'alzheimer forse potrebbe essere un'alzheimer, ma che si è presa da questa conclusione in previso, il numero che è in rega bianca, e si può raggiungere le relazioni che avevano terminato così. Pente, al giro, ritatto con l'Alzheimer 1-0, la cusura di Capuano, la palla finissima di Capuano, uscita il basso del barone e mette in angolo. Calcio d'angolo fuori di Alvestro per quella subita di spugno, lo dà contro subito, l'Alzheimer 1-0, palla per Pente, ai tendenzia, rotto sul sinistro, ma non è finissima in aria, altra cusura di Capuano. per identificare il calcio si chiama Richard, i tre più forti del fior, e un calcio così. Giare con un calcio se alessi pin期àeno sono un greco di acer empower in calcio, all'alzheimer étaitР, inpezilinge con un calcio di alzheimer le caused allemande di Avelino. Inizia la traccia. Ecèn data prima. il pallone troppo potente al suddinello, per l'altra è finissimo l'acqua, l'ambiente, l'ambiente è la piccola grande E' un po' alza sopra l'altra verso, parecchio, e l'ansia un luogo, è stato buono l'alzare con il dito. E' un giro, l'angelo, l'unico il giro, l'alzare, 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 l'alzare ancora, una soантessa, un salimento di piano sul paese, non Laser, ancora piano il ritiro e la retta! 2-0, ancora piano, e ancora chi trova There you save, 2-0 a Guaia che è una grande che non è finito il testo che l'ha bisogno di pregolare quando la lunga è finito il testo 15-15 in attacco ha fatto aumentare il peso estensivo non c'erò il testo ha avuto il testo ha avuto il testo di meglio il campionato anche in cui si viene con le mani in alto a questa volta o a Andrea con la presenza del palla con il grimo che non esiste nel punto con il grimo con il grimo del barone il campionato ha saluto un piccolo che dice che è il problema che è il caso che è il caso che è il caso di un'ottima di un'ottima di un'ottima di un'ottima che è il passivo in questa occasione di un'ottima di un'ottima di un'ottima la realizzazione di un pochissimo se l'è rippare in questa bisogna in mente perché il secondo destro ha pallafori Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 fuori lì per provare il suo tavolo, di meglio, voglio andare via, non c'è due, di meglio, mi sono andato via, che trovano anche le bellezze, che non si fanno via. Se si fanno l'inizio, non so fuori lì per. Guardi meglio, la conclusione di la targola, quando c'è un agente al venuto, ventino, 4 minuti a fare un investimento un po' più per non fare un contesto, perché le vogliono, di capirino che intanto un sottopallone sul trante, che forte sta, ottimo un contesto di Capuano che poi si sbaglia il disimpegno che da il palo di Caterino, e infine a Barona lo prenderanno, sanno incangolato, siamo due a due. Capuano, poi lo metto la misura, lo è liberato dall'appropriato di recupero, ma che hanno il risultato che non si è rimasto a rubare in sostanza di sensibilità e non si è rimasto benedibile ma che hanno direttamente la unione per finire non ce ne vado a volerci a fare e non si è rimasto ma che hanno il risultato e non si è rimasto a fare il risultato il pezzo il pezzo il pezzo il pezzo non ti capo a lui non sono le tendenze se è interrompendo il pezzo la rupuzione come andiamo fuori, mi trova di preoccupare il ballone, lanciando il gioco, basta il tente, perché se mi trovava che cosa aveva indistituto niente, la fortezza, e qui c'è una reazione di da qua, non c'è l'anno, ma non sto per ieri, perché non solo una pressione, il tente, un tente di meglio, avrai il senso che ha il gioco, avrai il senso che è il gioco, il tente è pesonissimo, il ballone, il sedino è spiegato, un'ottima occasione, non si tratta di stare niente, non si tratta di sereo, è ottimamente il ballone in questa sua attività, bene, la girata, e infila ancora, 3 a 2, e poi diciamo che è un pochino di minuti per ripartare il puntetto. Mi sono andato in un posto, mi sono andato in un primo tempo, per essere partito a bene. E' meglio. Contra il Stato qua, lei, che è anche la mia scopera. Già, quello è sotto di Caterina, è un'altra occasione, però non c'è perché sono di Carboano, l'altro Carboano liberato, ti voglio provare a ripartire. Allora si introdottiranno, perché sono sotto di Caterina. Inizio il primo tempo, 3-2 autosporto, si risentiamo a guardare questo.